Il bivacco Davide, meta di oggi, si trova tra il passo Sellero e il passo Torsoleto, a 2650 metri di altitudine. Il bivacco si può raggiungere da ben tre vallate, dal rifugio Campovecchi, dal rifugio Val Brandè e dal rifugio Torsoleto. Quest'ultimo percorso è sicuramente più breve, circa tre quarti d'ora dal rifugio Torsoleto e tre ore e mezza dal paese di Loveno. Mentre si percorre il ghaione che separa il rifugio dalla cresta, può capitare che facciano capolino delle marmotte come questo. Una volta superato il passo Torsoleto, ci si apre una vista sul lago di Piccolo e su un ghiacciaio del Bernino. Oltrepassando la cresta, invece, possiamo osservare l'adamel e il suo ghiacciaio bian di neve. PIVAC ben curato, costruito nel 1994 in memoria di Davide e Salvadori, morto per incidente un anno prima. Posizione panoramica permette di vedere diverse catene montuose anche a notevole distanze. Oltrepassando la cresta, invece, possiamo osservare l'adamel e il suo ghiacciaio bian di neve. Oltrepassando la cresta, invece, possiamo osservare l'adamel e il suo ghiacciaio bian di neve. Se vuoi supportarci metti un like, iscriviti al canale e attiva la campanella. Ti porteremo con noi in altri rifugi e percorsi di montagna. Grazie per la visione!